L'istituzione tecnica superiore è un percorso post-secondario e non universitario, è un percorso biennale. Oggi i ragazzi che fanno questo percorso per legge hanno riconosciuto 51 crediti. Noi oggi abbiamo fatto una convenzione per cui i ragazzi alla fine del biennio avranno riconosciuti 96 crediti su 120, quindi più di un anno e mezzo sui due. È un'opportunità per i ragazzi che possono fare un percorso di ITS e poi, qualora vorressero aspirare ad una laurea trenale di ingegneria, poter sostanzialmente recuperare un anno e mezzo dei due che hanno impiegato. Quindi è una grande opportunità per i ragazzi, ma è una grande opportunità anche per l'università perché aumentiamo i possibili numeri di ragazzi che conseguiscono la laurea. Noi puntiamo ad averne 120, cioè come avesse fatto due anni di università, in modo che il ragazzo o si ferma dopo due anni o ne fa ancora uno e diventa ingegnere diplomato. Questa è l'idea. Siamo positivi che raggiungeremo questo, quindi ripilogare una formazione fatta con il fare, complementata da un'istruzione scientifica di tipo universitario, collaborazione con le aziende, possibilità nel caso uno lo ritenga, si senta o nei suoi programmi di vita fare il terzo anno per fare il diplomato ed eventualmente dal diplomato passare al cinque anni del dottorato. Quindi si tratta di una vera e propria rivoluzione nel mondo scolastico e quindi anche un esempio unico in Italia. Si dovrebbe essere una nave scuola in Italia per dare corpo e valore che poi non inventiamo niente di nuovo, è un po' simile all'ingegnere diplomato tedesco.